Continua il mercato della palla a mano con Versano per costruire la squadra che difenderà il titolo di campione d'Italia nella stagione 2022-2023. Dopo i sei pesanti addi, tra cui quelli di Radovcic e Giannoccaro e gli arrivi di Vrobel e Iachemè, la squadra conversanese si è assicurata le prestazioni del terzino Thomas Branch, classe 1998, proveniente dalla squadra altoatesina dell'Eppan. Un metro e novanta per 87 chilogrammi, Branch è cresciuto nel vivaio del Merano con cui ha conquistato lo scudetto Under-20 nella stagione 2017-2018. Nella stagione 2019-2020 si è spostato nella vicinissima Piano dove ha disputato tre stagioni consecutive. Approfittando anche degli impegni universitari, che lo vedranno probabilmente studente nella vicina Università di Bari, lo staff tecnico Biancoverde si è subito mosso per raggiungere un giovane atleta di valore al roster di coach Tarafino. A proposito di giovani, è cominciata nel migliore dei modi l'avventura della formazione Under-15 femminile nelle finali scudetto. Vittoria 28-26 contro Merano e adesso il prossimo avversario sarà il Flavione in Civitavecchia. Grazie a tutti.